Ma insieme l'unione fa sempre la forza, quindi insieme si riesce a fare tutto, anche la protezione civile in se stesse e l'unione di tante forze che poi dopo riescono certamente organizzate e preparate. Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica assieme per informare la cittadinanza sui rischi naturali che interessano il nostro paese. Il 14 ottobre volontari e volontari di protezione civile allestiranno infatti punti informativi per la campagna Io non rischio nelle piazze dei capoluoghi di province italiane per diffondere così la cultura della prevenzione e sensibilizzare sui rischi naturali. Anche Arezzo partecipa alla campagna, l'appuntamento è in piazza Guido Monaco. Io non rischio, sono già da diversi anni che viene fatto qui ad Arezzo, quindi questo credo sia il terzo anno, si svolgerà domani in via Guido Monaco e tutto ciò che ognuno dovrebbe sapere in caso di calamità, di eventi, di terremoto, di alluvione o altre cose, cosa bisogna sapere per evitare alcune cose che possono far rischiare la vita. La protezione civile comincia dai nostri comportamenti nell'immediato e quindi avere coscienza di come comportarsi negli eventi più attesi, più probabili è importante per ridurre gli effetti. Sì, si sorride anche, noi siamo la valigia dei sorrisi, facciamo parte della misericordia di Arezzo e anche noi saremo presenti quest'anno, intratterremo i bambini così in modo che i genitori possano attingere informazioni che verranno date in questa giornata.